Ho appreso ieri sera da Parenzo, giornalista della Zanzara, della mia espulsione. È stato un fulmine a ciel sereno, soprattutto sul lato umano. Sono uomo onesto e leale, leghista fino al midollo da 22 anni. Aspetto serenamente le motivazioni prima di prendere le mie decisioni. È il commento affidato a Facebook da Massimo Polledri, ex parlamentare e attuale consigliere comunale del Carroccio. È stato infatti Parenzo a dare la notizia poco prima delle 20 leggendo un SMS che gli era appena arrivato. Non è stato cacciato solo il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ma anche l'ex deputato piacentino Polledri. Lo hanno deciso nei giorni scorsi e non glielo hanno neppure comunicato, era il contenuto del messaggio. L'argomento ha tenuto banco ieri durante un incontro della segreteria provinciale finito a tardasera. La posizione di Polledri era in sospeso dall'autunno 2013, da quando cioè la segreteria piacentina aveva chiesto al direttivo Emiliano di espellere l'ex parlamentare, da anni in contrasto con il gruppo dirigente leghista locale. Il segretario Pietro Pisani ha commentato così. Polledri è stato una grande risorsa per il nostro movimento, abbiamo combattuto insieme tantissime battaglie, non sempre mi sono trovato d'accordo con le battaglie fatte da lui, specialmente per il fatto che le battaglie si fanno verso gli avversari all'esterno e verso invece gli amici di partito all'interno degli organi di partito. Comunque è stato un valido militante del movimento, un autorevole rappresentante per piacenza della Lega. È stata assunta questa decisione poiché sono state valutate alcune cose non condivise dai vertici del movimento. Purtroppo sono cose riservate che non posso dire perché sono state discusse, è stato preso il provvedimento, però non posso divulgarle.